Ci sono tanti modi per definire un acquisto sbagliato. O tanti detti come chi risparmia spreca. O come se dice a Roma, chi poco spenne, poco appenne. Ed ecco dunque perché porto questo video qui sul mio canale. Innanzitutto vi do il benvenuto e bentornati qui in questo mio nuovo video. Vedremo dunque perché bisognerà spendere ogni tanto qualche euro in più appunto per fare la differenza sui nostri attrezzi. Ma tutto questo lo vediamo subito dopo la sigla. Dunque a volte si ha la necessità di usare degli attrezzi anche seppur in modo sporadico e allora decidiamo di non spendere tanti soldi appunto per quel determinato utensile. Ed ecco allora che lì ci continuiamo a fare sempre le solite premesse. Vabbè ma lo uso così talmente poco. Ma perché ce lo spenne tutti sti soldi? Pen' attrezzo che magari userò uno, due, tre volte l'anno e allora vado di risparmio. E quindi eccolo lì subito pronto proprio lui. Lo spreco. Perché pensando di fare un buon acquisto risparmiando per un uso sporadico di questo determinato utensile, attrezzo o quello che si voglia acquistare a un prezzo più basso del dovuto, dobbiamo sprecare i nostri soldi. Perché ci vedremo costretti chiaramente a fare la spesa due volte. Perché? Perché la prima sicuramente non sarà andata a buon fine. Ed è proprio al mio caso che acquistando una rivettatrice per mettere qualche rivetto ogni tanto, anche perché per chi mi conosce sa bene che io la rivettatrice la uso veramente veramente poco, ho risparmiato comprandone una veramente economica. Non che adesso ne abbia comprata una chissà di quale marca, anche se ha un minimo di marca, però questo lo vediamo adesso andando avanti con il video. Tornando alla vecchia, alla precedente rivettatrice, purtroppo appena aperta, appena sballata, sono andato a mettere il primo rivetto. Non era né grande né piccolo. Una via di mezzo, una pompata, due, tre, quattro, il rivetto non si spezzava. Andando a fare una ultima e fatale pressione, ecco cosa è successo. Bene ragazzi, guardate questa rivettatrice in tutto il suo splendore, chiaramente nuova, nuova, nuova. Ma purtroppo quando si è trovata davanti un rivetto del genere, vedete che non è nemmeno chissà quanto grande, guardate cosa è successo. Ok. Non so se riesco a farvelo vedere, si vede che il metallo è nuovo, non è stata mai, mai usata veramente, ragazzi. Perciò, come detto prima, avevo pensato di fare un buon acquisto per mettere qualche rivetto una volta ogni tanto, invece si è rivelato una vera e propria tragedia. Ragazzi, purtroppo il vero problema fondamentale non è il prezzo, perché abbiamo buttato, sia no, credo 7, 8 euro, 10 euro, adesso non ricordo quanto avevo pagato questa rivettatrice, ma il vero problema, il vero punto fondamentale è che non ho potuto terminare il lavoro. Mi trovavo al deposito dove parcheggio il mio camion e stavo facendo un lavoro dietro al paraurti. E praticamente mi sono trovato in difficoltà non avendo più una rivettatrice. Per fortuna che al garage ne avevamo un'altra e sono riuscito a terminare, quindi ne ho comprato un'altra. Andiamo a vedere se vale la pena spendere questi 12 o 13 euro. Per chi fosse interessato lascio il link qui sotto in descrizione. Quindi mi è bastato andare su Amazon, digitare la parolina magica rivettatrice per poterne comprare una nuova e farmela portare a casa, perché in verità l'ho pagata anche meno rispetto al brico. Quindi, come si suol dire, spacchettiamo il pacchetto e vediamo al suo interno cosa troviamo. Che pena rivettatrice che trovi. Ok, fatto questo piccolo sketch, ricordiamoci sempre il cartone agli atti ed ecco qui come si presenta la nostra nuova rivettatrice della Stanley. Chiaramente non sono pagato per fare il nome, per fare questo tipo di pubblicità e portare questo tipo di contenuto, ma sapete bene che a me piace veramente tantissimo condividere le mie esperienze, i miei acquisti e tutti i miei lavori, diciamo, di quello che possiamo parlare all'interno dei nostri canali. Dunque, non aspettiamoci una confezione chissà quanto elegante, perché veramente è molto spartana. Perciò andiamo a rompere subito il Plessiglass che racchiude la nostra nuova pinza della Stanley e andiamo a vedere come funziona, se funziona e se vale la pena spendere questi 12 o 13 euro. Ok, allora cominciamo col dire la prima cosa più importante e fondamentale è quella delle misure dei rivetti che potranno essere tratti con la nostra pinza, ovvero da un minimo di 3 mm, una misura intermedia di 4 mm, a una misura massima di 5 mm. Chiaramente per chi non lo sapesse, 3, 4, 5 mm, parliamo del diametro del rivetto, ovvero della testa a quella più grande. Questa qui, per intenderci, da non confondersi con il gambo, perciò questo qui sarà quello che pregiudicherà la nostra misura. Dando una veloce occhiata su entrambe le rivettatrici possiamo notare che questo qui il corpo è in metallo, mentre questo qui il corpo è una lega, non so di che tipo, una fusione, sembrerebbe quasi ghisa, ma ghisa non può essere perché chiaramente altrimenti non si sarebbe mai rotto nemmeno il corpo interno e poi avrebbe avuto un peso veramente eccessivo. Mentre questo il corpo è in metallo, vediamo che è leggermente più lunga, perciò ci darà modo di effettuare una forza maggiore per tirare i nostri rivetti, ma una cosa che non mi piace è questo tipo di impugnatura. Sinceramente mi dispiace dirlo, ma se Stanley si fosse impegnato un pochino di più per quanto riguarda il grip dei manici non avrebbe fatto nessun danno, perché praticamente la plastica è abbastanza rigida e pecca della mancanza di un buon grip. Perciò immaginiamo che se avessimo le mani un pochino sudate o magari un pochino imbrattate di olio o qualche sostanza lubrificante, tenderà veramente a scivolare molto dalle nostre mani, a differenza di questa che per quanto sia è un materiale molto molto più gommoso, adesso non riesco a tirare fuori i manici, però questo diciamo è un problema che si può ovviare tranquillamente magari usando dei guanti. Adesso andiamo a vedere però come si comporta a livello di forza e a livello diciamo di resistenza. Una cosa che anche non sono molto soddisfatto è il fatto che quella vecchia portava un ugello, chiamiamolo ugello, testina, matrice, come vogliamo, a quattro, vedete, quattro ricambi, uno montato sulla testa e tre sul manico, questa della Stella invece chiaramente ricordiamoci abbiamo detto tre, quattro e cinque, ha solo tre testine. Poi se avessimo un rivetto da due e mezzo, tre e mezzo o quattro e mezzo, la via intermedia sicuramente sarà tirata allo stesso modo, magari facendo un paio di pompate in più. Dunque adesso per verificare la vera misura esatta dei rivetti eseguirò tre buchi con tre punti diverse, quindi tre, quattro e cinque millimetri, e quindi possiamo vedere se il test va a buon fine. Ok ragazzi, chiaramente per fare il test ho usato un ferro abbastanza spesso e non il classico convenzionale lamierino. Perché? Perché dovremmo stressare, dovremmo mettere a dura prova la nostra rivettatrice per vedere se sotto sforzo si comporta bene, se sgrana o se si dovesse rompere addirittura. Beh ragazzi, mi sono accorto che per fare la prova non ho tre misure differenti di rivetto, ovvero una dovrebbe essere poco meno di quattro e un'altra quattro millimetri per arrivare all'ultimo, quello più grande, da cinque millimetri. Perciò vediamo grossolanamente se riesce in qualsiasi caso a tirare la media misura e la misura quella più grande, che a noi è proprio quello che interessa. Dunque per prima cosa andremo a sostituire l'ugello, diciamo la matrice, quella più grande e andremo a mettere la via di mezzo, perché chiaramente abbiamo detto che stiamo intorno i quattro millimetri. In senso anti-orario andremo a svitare il beccuccio. State attenti perché è spinto da una molla e c'è il rischio che questo magari ci vada in giro per il lab e alla fine poi magari non lo troviamo più. Se si volesse dunque ovviare al discorso della molla, non so se riesco a farvelo vedere, tirando la pinza in fase di chiusura la molla giustamente a retra. Quindi vado a prendere il mio ugello, quello da quattro millimetri, e per non lasciare in giro nel lab sul bancone, ok, andiamo a rimettere direttamente l'ugello che abbiamo appena sostituito e lo rimettiamo nel suo apposito alloggiamento. Devo fare il video al contrario, cominciando dalla misura più grande a quella più piccola, ma voglio vedere appunto come si comporta la nostra pinza, visto che è un test oltre a una recensione, cominciamo dalla misura quella meno ingombrante, meno invasiva. Perfetto, quindi andiamo a mettere il nostro rivetto da quattro millimetri. Uno, due, nemmeno iniziato il terzo step abbiamo già rotto lo stelo del nostro rivetto. Ricordiamo che stiamo usando un ferro abbastanza spesso, abbastanza importante, perciò più la superficie sarà larga, meno step di chiusura dovremo fare, meno pinzate avremo bisogno di eseguire. Più il lamierino sarà fino e sottile, più dovremo andare a dare le pinzate perché la pallina dovrà arrivare sulla parte superiore fino a creare la rottura dello stelo. Il momento della verità è con il rivetto da 5 millimetri. Andremo dunque prima a risostituire la matrice e metteremo quello chiaramente da 5 millimetri. uno, due, tre, quattro. Ok, ragazzi ricordiamoci sempre che lo stelo uscirà dalla parte posteriore e non dalla parte anteriore perché le ganasce tireranno lo stelo verso l'esterno, verso la parte posteriore. Per quanto riguarda la forza ragazzi per i rivetti da 5 millimetri bisogna fare tanta tanta forza, al di là che il rivetto venga messo su un lamierino fino, su uno spessore abbastanza importante come questo, ma dobbiamo sapere ed essere a conoscenza del fatto che la forza da fare è, non dico estrema, ma è molta. Per fortuna abbiamo delle, diciamo, maniglie, dei manici un pochino più prolungati rispetto ad una normale. Voglio dire, ci può stare, questo non dipende dalla macchina ma dipende appunto dal tipo di rivetto. Dunque adesso sarebbe inutile fare altre 25 mila prove perché abbiamo visto che funziona abbastanza bene. Speriamo che nel tempo possa durare più di quell'altra anche se credo proprio di sì. Si dice che il buongiorno si vede dal mattino. Quando si va a fare la forza si sente che la pinza aggrappa lo stelo e lo porta verso la parte posteriore quindi non va effetto frizione, non va diciamo a vuoto, perciò si vede che si sente, si percepisce che la ganascia attacca bene sullo stelo per portarlo verso diciamo dietro. Perciò ti ripero se dovessi essere interessato lascio il link qui sotto in descrizione per l'acquisto sempre su Amazon e non mi resta che lasciarti i soliti consigli e raccomandazioni che sono quelle di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Ricordati di attivare la campanellina per sapere quando porterò nuovi video qui sul canale. Se ti fa piacere lascia un pollice in su a me, sicuramente aiuterai, a te non costa nulla. Perciò non mi resta che augurarti buon proseguimento di visione con altri video. Ci vediamo alla prossima. Ciao da capezza! Ciao! 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 Grazie a tutti